La Cagnolina Ehi, 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 ehi! mangia bene dopo... Eh si! O mangia, o dorme... Le cose vanno bene. Si perché quando è troppo stanco neanche l'altro non mangia. Sì è bambino è mi fa è ma deve fare merda non va in nada Matteo spostati guarda che se ti vede maia non è scemo non è scemo ehi bambini non è scemo non è scemo non è scemo fai a sce 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 mi spiace mi spiace per lui come si dice da noi ma neanche qua si può non te l'avevo dito Fulvia non fa così perché è geloso mi fa qua qui bubò qui bubò dai su bubò dai bubò dai bubò pap pap Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi ogni giorno prendere un pezzo di carta da cucina, i panni, e ogni volta prendere su sta cuccioli. Sì, solo che qua i cuccioli da noi non li vendiamo neanche. Ma sai, l'importante sarebbe sapere che vado in buone mani. Quello è un pezzo di carta da cucina, però comunque... No, non ho rotto. No, non ho rotto. No, non ho rotto. No, non ho rotto.